C'è un artista nota per la sua radicalità e che ci ha insegnato che gli spazi in cui ci muoviamo non sono affatto neutri e questa è Monica Bombicini. Noi abbiamo diverse opere sue in collezione, una di queste I believe in the skin of things as in that of women. È una citazione di Le Corbusier, un'opera che Monica Bombicini ha ancora fatto nel 1999 per la Biennale di Venezia. È un'opera che consiste, se lo si può vedere, in questa immagine, in pannelli che si usano per le costruzioni dunque ci si può entrare e all'interno ci sono diverse caricature che si rifanno al mondo dell'architettura maschilista e una di queste è di Auguste Pérez, fa vedere un uomo nudo con la scritta A window is a man because it stands upright. Una finestra è un uomo perché sta eretta e l'uomo ha anche il suo membro eretto e niente, credo che anche questa installazione di Monica Bombicini ci faccia capire come gli spazi non solo non siano neutri ma sono anche sessualmente connotati e ci dovrebbero far pensare anche su questioni di identità e di genere. Grazie. Grazie. Grazie.